Starbuck Badate a non tacciarmi di blasfemo, Starbuck, io colpirei il sole se mi insultasse. Sentite, Starbuck, tutti gli oggetti visibili non sono altro che maschere di carta pesta. Alcuni inscrutabili e purulenti fattori determinano la formazione dei loro lineamenti. La balena bianca me lo insegna, essa è... è un mostro. Eppure non è che una maschera, è ciò che si cela dietro quella maschera che io odio soprattutto. I malefici arcani che hanno sempre afflitto e terrorizzato l'uomo dall'origine dei tempi. I mali che prostrano e mutilano la nostra razza non uccidendoci decisamente, ma lasciandoci vivere con la metà di un polmone o la metà del cuore. Eppure non è molto meglio! Grazie.